I miti Un sindacalista di VB Io ti consiglio di non perdere tempo con i miti, rispose Nicola. Sulle cronache dei giornali prima e sui libri di storia poi, leggiamo nomi che sono dei miti positivi o negativi del vivere sociale. Ma per i maestri quei personaggi sono solo altri noi stessi, attraverso cui la collettività fa le esperienze di cui ha bisogno. Il bandito Giuliano amato dalle donne o il premio Nobel per la pace, Attila o il campione di pallone, sono tutti sensori di un unico corpo chiamato società. La differenza tra la massa anonima e questi suoi sensori è che i codici di questi ultimi, le loro regole vibratorie, esigevano di divenire strumenti collettivi, collettori di esperienze, punti di riferimento per la massa.